Atena dice che usano le strutture della Blackwatch per rilasciarlo. Cosa dovrebbe fare? Non lo sappiamo, ma un container non può incidere su più di 20.000 metri cubi. Quindi se provassimo un rilascio controllato per vedere cosa fa... Atena mi ha fornito la posizione di un carico di white light già manomesso. Se vuoi attirare l'attenzione di Mercer, ti sarà sicuramente d'aiuto. Ma James, ascoltami. Ho già visto quella luce nei tuoi occhi, negli occhi di chi sprofonda, di chi si allontana dal mondo. Ti prego. Nonostante questo, cerca di non perderti. So quello che faccio, padre. No, Mito. Temo proprio di no. Tu, come cazzo ti chiami? Anderson, eseguiremo un rilascio limitato prima di passare all'intera area. Cominciare subito lo spiegamento. Cosa? Adesso? Dice il sospedio? Ma è contrario al portocollo. Io non posso... Caporale, apra le valvole. Sì, signore. Che cazzo sta accadendo? Che interiore funziona, no! Tu e se mette male. James, cosa ha fatto? Mi spiace, padre. Non posso parlare. Grazie a tutti. 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 Un vero spreco. Addio, Heller. Grazie a tutti. Non puoi uccidermi. Non puoi uccidermi, pezzo di merda. Ora, vediamo se questo vale anche per te. Sarebbe stata una morte, ma ora ti farò soffrire. James! James! C'è un po' sta succedendo. C'è un Godzilla alto 20 metri diretto al deposito di White Light. Non puoi uccidermi. Non puoi uccidermi. Non puoi uccidermi. Non puoi uccidermi. uccidermi. Non puoi uccidermi. Non puoi uccidermi. Uccidermi. È di nuovo in piedi. La creatura è viva! No! Rattler 3-3, scudiate decisamente diretto verso i serbatoi di sottaggio del Whitelight. Rattler 3-3, si dedica la creatura di capire i serbatoi di Whitelight, acquiesce la missione. Rattler 3-3, scudiate decisamente diretto verso i serbatoi di sottaggio del Whitelight. Rattler 3-3, scudiate decisamente diretto verso i serbatoi di sottaggio del Whitelight. Rattler 3-3, scudiate decisamente diretto verso i serbatoi di sottaggio del Whitelight. Oh mio dio, il soggetto è... Porca troia, l'avete visto? L'ha visto qualcun altro, cazzo! Porca puttana! James? James, mi senti? Che succede? È la Blackwatch? No! Gli infetti! Sono qua fuori! Vada via subito da lì! C'è tempo! Madre di Dio, sa chi diventa un castito! Sta rispondendo la forza! Padre, c'è che duro! Correggiamo l'icone! Ma chi vogliamo accettare? Donald! Padre! Padre, mi risponda! Red Crown, qui Tower 2-3! L'ho appena visto Alex Mercer uscire da un'abitazione a sud della Zona Verde! Merda! È la casa di Padre Guerra! Padre! Padre! Padre Rowan Padre! Padre犇 Padre! 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 Maia? Devo entrare nella zona rossa, ma dove devo cercare Dana? Devo entrare nella zona rossa, ma dove devo cercare la zona rossa, ma dove devo cercare la zona rossa? Devo entrare nella zona rossa, ma dove devo cercare la zona rossa, ma dove devo cercare la zona rossa? Devo entrare nella zona rossa, ma dove devo cercare la zona rossa? Devo entrare nella zona rossa, ma dove devo cercare la zona rossa? Grazie a tutti. Grazie a tutti.